Buongiorno segretario Salve segretario, allora torniamo per quanto ci riguarda, per quanto vi riguarda anche in qualità di CGL sulla questione dell'IDI è stato presentato questo comunicato ufficiale, questo piano praticamente di rafforzamento, di risistemazione, di riqualificazione degli ospedali del gruppo ID un piano vagliato dai commercialisti e dagli uomini di fiducia della congregazione dei figli dell'Immacolata Concezione che gestisce ovviamente ricordiamolo il gruppo sanitario dell'IDI un piano che però a voi della CGL non piace perché prima si parlava della mancanza di un piano industriale ora voi invece di fronte a questo piano dite si tratta di un ricatto sociale, è un piano che prevede 400 esuberi, vero segretario? Dalla lettura del piano questo è il risultato, significa che fondamentalmente tutti i costi, gli errori, gli sprechi si scaricano di nuovo sul lavoro e sui lavoratori e quindi anche sulla quantità e qualità del servizio offerto quindi vengono colpiti i cittadini da una parte e dall'altra i lavoratori in questo senso ci sembra un piano che fondamentalmente non risponda alla necessità di riorganizzare il sistema sanitario in questo caso il gruppo perché è una operazione puramente matematica e quindi anziché scavare su come riorganizzare il gruppo affinché non perda si scarica tutti i lavoratori, questo per noi è inaccettabile Io credo sia anche molto difficile, chiedo conferma a lei segretario, affrontare nello specifico la vicenda ID rispetto e col massimo rispetto anche nei confronti dei lavoratori del CTO, del San Filippo Neri di tutta un'altra serie di ospedali che sono a rischio chiusura e le cui tematiche noi abbiamo affrontato e sviluppato qui a Radio Roma Capitale Nel caso dell'IDI però c'è il problema e c'è la particolarità di questa inchiesta sulla gestione proprio dei fondi dell'IDI che rende veramente difficile io credo mantenere una certa correttezza diciamo intellettuale nel non fare 2 più 2, nel non dire si tagliano posti di lavoro quando c'è stato un buco da 800 milioni e si presuppone che questo buco sia stato realizzato anche per una gestione diciamo così allegra da parte dei vertici della congregazione cioè quanto è difficile non cadere nel populismo si taglia e si fa la guerra tra poveri mentre invece chi doveva vigilare faceva spese folli è difficile in questo caso segretario? Allora io credo che sia arrivato il momento non soltanto per la vicenda dell'IDI ma sia arrivato il momento in generale nel nostro paese e quindi anche nella nostra regione nel nostro territorio di voltare pagina cioè nel senso che ci debbono essere quando ci sono delle responsabilità queste vanno assunte, indicate e quelle responsabilità non si possono scaricare su altri quindi riteniamo che sia da questo punto di vista arrivato il momento secondo, lei prima faceva poi ritorno al tema faceva riferimento, ci dava altri ospedali non è un caso che noi diciamo che la soluzione la soluzione va trovata fermo restando il contesto, il tema di attività per ogni singola realtà ma va trovata all'interno di un contesto della riorganizzazione del sistema sanitario perché qui altrimenti se non cambiamo anche le scelte del commissario Bondi noi corriamo il rischio di avere meno sanità privata e più disoccupazione ma anche di avere meno sanità pubblica e più disoccupazione e quindi c'è un tema di piano generale e dei tagli sbagliati di Bondi non è un caso che noi sosteniamo che il commissariamento ormai va chiuso e va riconsegnato alle scelte politiche alla nuova regione per quanto riguarda l'inchiesta sull'IDI chiaramente noi invidiamo, sollecitiamo e confidiamo anche in questo lavoro della magistratura ma intanto sarebbe utile e opportuno che al di là di questo lavoro della magistratura che certamente sarà importante per i risultati che fornirà ma intanto ci sia un'azione di responsabilità e di vigilanza interna capace di far emergere quali sono queste responsabilità dentro la stessa non si aspetta soltanto la magistratura per questo senza populismo senza populismo ma con una dosi di realtà riteniamo che oggettivamente i lavoratori hanno già dato hanno lavorato in questi mesi hanno garantito le prestazioni senza prendere lo stipendio credo quindi che ora occorre un po' occorra che anche altri facciano, ci mettono qualcosa mi permetto di dire tra l'altro segretario di Berardino che la specificità e la valenza del caso dell'IDI è tale che ieri c'è stata anche questa visita del vostro segretario generale noi abbiamo raccontato anche in diretta ieri sera quanto è avvenuto con la visita di Susanna Camusso proprio ieri in via dei Monti di Creta proprio nella sede dell'IDI non è un caso la presenza ieri della Camusso perché la vicenda della sanità nel Lazio assume sempre più assunto anche toni e caratteristiche nazionali non è solo una testimonianza ma voleva essere il segno ecco di come la CGL e quindi il sindacato intorno al tema della sanità svilupperà la propria iniziativa per quello che gli è possibile per quelle che sono le nostre funzioni ma certamente noi non ci rassegniamo ad una condizione di tagli dei posti di lavoro e ad una diminuzione del servizio sanitario ecco questo il messaggio è che tutta l'organizzazione non soltanto difende ma chiede che venga riorganizzata e riqualificata la sanità e questo si può fare senza scaricare sul lavoro e sui lavoratori il costo soprattutto perché secondo alcune indiscrezioni questo piano dell'IDI prevederebbe praticamente l'accorpamento di alcuni reparti qualcuno sostiene ad esempio che alcune eccellenze potrebbero andare a sparire cioè chi parla ad esempio nell'articolo di Lara Sacchettoni di chirurgia arteriosa cioè voi avete un contropiano rispetto a quello presentato adesso già un mese e mezzo fa il presidente Boncoraglio ne presentò uno che prevedeva solo dico solo tra virgolette 160 esuberi secondo voi si può salvare ogni singolo posto di lavoro nell'IDI e farlo in tempi brevi segretario? noi allora anzitutto noi lei prima parlava che noi ci siamo lamentati giustamente del fatto che mancava un piano certamente noi sollecitiamo affinché ci sia una rapida anche discussione però del piano perché il piano è stato illustrato dai professori il piano non possono essere solo slide ed immagini il piano deve essere un qualcosa che deve misurarsi sull'offerta deve misurarsi sulla necessità di non cancellare le eccellenze di non quindi indebolire la qualità del servizio e deve misurarsi anche sul lavoro e sulle sue condizioni il tema vero è che finora sul piano non si è aperto alcun confronto c'è stata solo una informazione anche ieri abbiamo corto l'occasione per mandare un messaggio diciamo all'azienda per dirgli della necessità di aprire un confronto sul piano perfetto cioè perfetto perfetto se tutto poi andrà secondo quello che voi e gli altri sindacati e i lavoratori si aspettano e sperano ovviamente altrimenti continuerà immagino la lotta da parte vostra continuerà la mobilitazione ma noi assieme a Cisle e Will abbiamo già annunciato la settimana scorsa siamo per ribadirlo lo faremo di nuovo il 9 in occasione di una in occasione di una nostra conferenza stampa sulla situazione economica del Lazio continueremo anche una fino alla mobilitazione fino ad arrivare a quella generale qualora il commissario continua a tagliare a fare le sforbiciate e qualora non ci siano delle risposte che vanno nella direzione non tanto del sindacato quanto noi riteniamo nella direzione dei bisogni delle persone segretario noi la ringraziamo la auguriamo buon anno e speriamo di sentirci presto per quanto riguarda l'IDI nello specifico e in generale sulla questione sanità con delle notizie buone considerando anche che entriamo ormai quasi in un periodo elettorale quindi sentiremo anche parecchie promesse in merito alla sanità regionale noi e voi so che monitoreremo molto attentamente queste promesse per vedere quali poi verranno mantenute in sede post elettorale segretario la ringraziamo arrivederci buon lavoro buongiorno grazie arrivederci ringraziamo Claudio Di Berardino segretario CGL di Roma e Lazio intervenuto ai microfoni di Radio Roma Capitale